giove il sole più grande permesso olire primo giugno 2011 quando si comincia si prosegue a volte dove non hai mai visto sai perché il fascismo così lo vuole ma una continuazione sarà cosa mai nessuno dice oggi però ho dei dubbi su qualcosa di più grave vicino a cosa resta nella sua posizione chi ne aveva voglia o cos'era successo in quel lontano posto detto qui dimmi i tuoi autori preferiti alla fine erano omosessuali che anerisce quest'estate che arriva dico questa era in basso questo posto non lo vedevamo nemmeno quanto piccolo misero povero era una medaglia così sarà rimasto fin quanto saremo vecchi ma la sua importanza il suo omaggio è semplicemente per sempre tutto un po come le lancette dell'orologio al sole prima ad essere state in questo stato pieno di illegale non registrato sai oggi per finire sembra come un numero da giocare all'otto per sempre tutti i gusti di non morire caro mio compaesano lottizzato ho capito lo vuoi più grande così come lo dice la tradizione il detto come si dicono queste cose purtroppo sono illegali gli umani non parificati con il terreno non hanno documenti aggiornati ho il piacere terrestre del dimentico lì in fondo forse è la paura di fare palazzi troppo alti vuoi continuare o ti hanno intimidito lo so sarà altro ma rivolgiti a me un'altra nazione ci saluta quel di prima era pinocchio ancora sei vivo ma che dici dove eri andato a finire era nella lavatrice lo so sembra normale o eri trasferito in un lager la settimana scorsa sai ci sono differenze d'età e saranno non ospiti i mali il popolo dell'inferno sulla terra cioè si erano portati via tutto per conto loro ecco in questo pomeriggio quelli vicini a noi sono i problemi quanta gente quanti errori fanno questi umani ricordati la vita non tradisce come un filo di maccheroni dopo tutti gli studi aperti nella nazione sarà pur difficile ma vedrai diventa semplice come già cominciato come già tutti sanno una freccia o una faccia prego in un giorno così economico chissà si continua verso l'estate problemi saranno nostri vicini non è vero allora come ci spostiamo di casa se ne dovrebbero andare poi quando mai è successo lasciamoli andare avranno molti problemi reali vogliamo via corri tra poco il pranzo sarà servito dai continua tanto non faranno nulla ci prendono per matti ma sbagliano le persone in errore ci hanno preso per un altro tra te e me c'è di mezzo il mare come non te l'ho detto mai non è una cosa utile tra due animali dire così resta solo un altro giorno il potere tra noi e l'infinito chi vuoi me o il tuo lavoro il mare o altro e altro ancora non ti preoccupare se ti interessa sei vivo il resto lo sai tu magia dice il maestro il primo della classe non lo mangi e dimmi quale atto di racondia stai vivendo ora senza di te in questo giorno senza il premio in soldi liquidi che serve per comprare lo strumento per capire e ridere delle questioni giornaliere di quest'anno cara terra calabrese sorridi il sole di maggio ci ha salvato dal buio meandro dell'inferno e dai palloni gonfiati scusa si parlava d'altro tipo se vuoi il bene o di quanto è lontana casa dal posto dove si lavora i ricordi più forti sono i più vividi un sogno invece poter dire le parole per cosa ci fanno dire o anche dove siamo andati e ancora si pensa ai posti terrestri come posti in cui pertersi forse saremo bambini più che altro o abbiamo 15 anni non siamo né morti né paralizzati ok bene andiamo a uscire sbrigati se no si fredda lascia pure quella tazzina di caffè a metà voglio un secolo di luce questo 2000 successivo alle epoche precedenti per quanto sarà lontano il nostro anno 0 11 dove siamo andati dove saremo stati ci sarà un posto dove si descrivono gli atti e le proposte ho fretta pure io tu un grande abbraccio freddo ciao g grazie per aver ascoltato questa lettura se ti è piaciuta lascia un like e iscriviti al canale attiva anche la campanella per ricevere le notifiche sui nuovi contenuti a presto